Nella nazione del blu dipinto di blu servono orizzonti rosa. Così, con una serata di gala all'insegna della leggerezza, per dirla con un'immagine che richiama gli aerei che si librano in aria, ma non superficiale, perché i comandanti ben sanno quanti sforzi e concentrazione ci vogliono a guidare i velivoli, Volandia ha deciso di far spiccare il volo a una pattuglia di ragazze davvero in gamba. Sei, infatti, sono state le borse di studio distribuite al Museo del Volo a giovani che stanno frequentando la scuola Air Vergiate, in cui le donne costituiscono ancora appena il 10%. Così, Amera Kadir, Alice Marocco, Elena Padurean, Nicoletta Rombi e Giulia Stevan hanno ricevuto ex seco un contributo di 2.000 euro, mentre la prima classificata, Elena Chignola, potrà contare su un maxi assegno da 10.000 euro. Del resto, il percorso per diventare pilota dura tre anni e comprende, oltre alla teoria, anche le esercitazioni pratiche per un costo totale di 75.000 euro. Un investimento che frutta chi riesce a completare il percorso, perché i piloti sono ricercati e ben retribuiti. Ma arrivare all'ambito traguardo non è facile, soprattutto per le ragazze, che scontano ancora il pregiudizio che in cabina di pilotaggio ci debba essere un uomo. Così, il più grande museo del volo d'Europa, che sorge all'ombra dell'aeroporto di Malpense e si ingrandisce sempre più, con un ultimo padiglione, destinato all'aviazione commerciale, inaugurato proprio in occasione della serata dedicata al volo in rosa, ha deciso di contribuire a scrivere una nuova pagina dell'Aureonatica Italiana, con tanti ospiti di prestigio, a partire dal generale Silvano Frigerio e l'amministratore delegato e direttore generale di SEA Armando Brunini, radunati a una cena davvero ad alta quota. Non a caso, assieme al presidente di Volandia Marco Reguzzoni e a quello delle ervergiate Carlo Castiglioni, il taglio della torta è stato affidato al capitano Sara Frizzera, mamma che pilota un tornado e al maggiore Gaetano Farina, comandante delle frecce tricolori.